Ciao sono Rodine, oggi vi faccio vedere i regali che mi hanno fatto per i miei coprianno e dopo la sigla ve lo faccio vedere, l'ha già visto qualcuno però intanto sto a modicchiare il video che l'avevi visto ieri comunque vi faccio vedere i regali che già avete visto e uno sono rumorosi vabbè, i tre animaletti che mi hanno fatto per il coprianno Guerrino e Rachele, Iri inseparabili e Rachele pure Criceto e poi vi faccio vedere i due regali che mi ha fatto mia figlia con mio genero e quell'altra figlia che c'è la bambina piccola però adesso via la sigla e ci vediamo dopo Tornata, adesso vi faccio vedere gli inseparabili che mi aveva fatto Guerrino e Rachele che da vedere i visti però era per il mio coprianno, mi alzo e ve li faccio vedere, porto ancora il giacchetto perché questo è il giorno che ho festeggiato il comprianno e perciò era freddissimo adesso vi faccio vedere i miei inseparabili, Romeo, ciao Romeo e Giulietta la c'è il compiuto perché sto facendo i video e loro li pulisco tutti i giovedì, ciao Romeo, ciao Romeo amori quanto sei bello, il mio Romeo bellissimo e la mia Giulietta, ciao Giulietta, Giulietta è tutta fuori via Giulietta è quella col becco rosso e Romeo quest'altro, Giulietta i primi giorni che ce l'avevo anche mi fischiava e adesso si, spostano tutta la paglia che gli metto bello, allora ci hanno l'acqua e quel cosetto di semi, quel coso qua è quello che ho comprato su Shea che ora vi faccio vedere e l'acqua qua ok vi faccio vedere, allora possiamo compiuto un attimo così vi faccio vedere bene, queste qui erano le cose che ci mettono da mangiare stava pure qua, questo è quello che ho messo l'ho riempito però mangiano e questo qua questo è bello perché quando loro mangiano casca sotto questi semi che io svoto questo è il cassettino che posso svotare quanto mi pare e così tutti i giovedì io li pulisco però era pieno giovedì e perciò non l'ho riempito mi aspetto che finiscono i semi e poi gli metterò quelli nuovi però la cosa utile è questa cosa qui che si può levare e rimettere quanto ti pare quanto è pieno questo io lo levo tutte le sere, io lo svoto e questo è da ieri sera hanno mangiato e c'è ancora tutti questi semi sono tanti per un po' aglio di giorno ancora mangiano penso poi se non gli vedo che arriva qua giù glielo riempio un'altra volta non mi importa tanto per mangiano dentro si sa una cosa che non lo so sembra riesco a farvela vedere la parte di là forse riesco a farvela vedere com'è fatto il... vedete com'è fatto? allora vieni giù i semi vedi vieni giù i semi loro li prendono dove stanno quei buchetti loro buttano i semi che sono mangiati le bucce dei semi molto utile se avete pure voglia animali sono molto utili perché io tutti i giorni dovevo dire fuori queste cose qua e prenderli e levare tutti i semi invece così loro mangiano vedi questi sono piene si vede che sotto sono vuoti e battano sono molto caciarori questi due pappagallini gli inseparabili fanno tanto caciotto ciao romeo ciao romeo ciao lui fa sempre così da quando me l'hanno comprato fa sempre così giulietta invece i primi tempi non mi parlava i primi giorni invece adesso mi parla sono ritornata e adesso vi faccio vedere e quello me l'ha fatto un'ora che è un'oguerino giulietta romeo però questo qua me l'ha fatto rachere sempre per il mio compleanno il mio glicetino pure il mio glicetino ha sempre questa cosa qua che mangia domani lo pepoli che oggi sarebbe sarebbe oggi allora c'ha questa cosa qua c'ha la ruota e c'ha questo cosa quasi è svegliato questo qua che per mangiare lui sta lì ciao amore ciao diamo sulla ruota ciao amore ciao ma sento la mia voce si sveglia il mio piccolino vediamo eh oh eccolo eccolo il mio piccettino ora questo è il mio piccettino che è più grande di quando ve l'ho fatto vedere perché lui si è inclassata allora gli do il biscotto cioè ho trovato dei biscotti quasi finito a bere questo è il suo biscottino dei griceti perché era detto che è un maschietto era super piccolino quando stavamo a negozio lui cacciava via perché lui mi ha visto prima di tutti prima dei fratelli e lui è dollaro è un amore è un amore prima lui dormiva il giorno era piccolino non lo so e ora è diventato una panza guardate che panza ciao 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 mamma che troppo amore è bellissimo lui lui è bellissimo vedo se è bellissimo mettiamolo dentro alla sua cabietta perché stava dormendo stava dormendo e allora lo mettiamo qua vedo? lui lo abbiamo svegliato vabbè vado a prendere quell'altro legale ve li faccio vedere ecco sono ritornata vi faccio vedere questo qua prima questo qua me l'ha fatto mia figlia è quella lì che c'è la bambina è una maglietta e c'è una collana dentro vi faccio vedere la collana questa è la collana e questa è la maglietta sperando che viene estate che qui non va bene niente estate maglietta con maniche corte semplice nera e una magliettina con la collana ok speriamo che viene estate perché io me l'ho vestita già a mezza estiva però non si viene estate qua questa invece me l'ha fatta la mia mia figlia con mio genero oddio questo è un portafoglio così questo è un portafoglio non so come si vede non l'ho messo perché devo far vedere prima al video bello verde si apre così la carta c'è la carta e questo mi piace perché c'è probabilmente tante tessere tessere qua tessere qua e poi poi messi arriviamo perché dopo io ci metto la roba tanto vediamo leviamo un po' tutto così bello qua ci sta la chiusura a lampo per i soldi e basta i soldi di carta non si mettono ah i soldi di carta si mettono qua mezza ma io dopo il banco ma tanto non è che i soldi di carta li uso io dopo il banco ma il comodo e mi hanno prendo questi servono sempre i calzini della fila vabbè se vede l'elicottero ho il telefono sto facendo col telefono i calzini le paia dei calzini ma sono molto comodi perché mi devo comprare tanto e invece me l'hanno fatti meglio 3942 tra paglia va bene io adesso vi lascio perché è finito questo video spero che vi è piaciuto e vi è fatto copagnia ora ciao al prossimo video ciao ciao